Ciao e benvenuto e benvenuta alle sette vie del benessere, questo percorso di sette meditazioni più il bonus della meditazione del cuore. Si tratta di un percorso che ci insegna a gestire le nostre emozioni. E' proprio per questo che ho ideato questo percorso che va a lavorare su tutti i sette chakra. Iniziamo oggi con la prima meditazione, il corpo. Ti chiedo di trovarti uno spazio per te dove possa esserci silenzio, dove non c'è nessuno che ti disturba per almeno 50 minuti e se puoi usa le cuffie. Bene, in questa prima parte della meditazione se riesci rimani seduto tenendo la schiena ben dritta in modo da facilitare la tua respirazione. Entra in contatto con il tuo respiro, il tuo corpo e il tuo respiro. visualizza la tua aria che entra nel naso ed esce. Cerca di respirare senza alcuno sforzo in questo momento, con leggerezza e amore. pensa solo a due parole, dentro e fuori. Ispiro ed espiro. Solo questo. Se vuoi puoi chiudere gli occhi per facilitare questa consapevolezza, inizi a fare un piccolo check up del tuo corpo. Ascolta cosa ha da dirti, quindi chiedigli come sta. Sei preoccupato? Quali pensieri lo turbano in questo momento? fisicamente chiedi al tuo corpo come sta? Io puoi chiedere anche se sei d'accordo. Sei d'accordo nel fare questa meditazione, in questo momento? Partiamo dal presente. Prendi in esame la tua giornata di oggi oppure di ieri. Fatti arrivare delle immagini. Cosa hai fatto dalla mattina appena ti svegli? Ringraziando l'universo per un nuovo giorno di vita. visualizzi la tua colazione. Guarda con chi sei. Trascorre la tua mattina fino al pranzo. e così via pomeriggio e la sera rimando a cena. Cerca profondamente il tuo respiro e inizia a rilassarti. Grazie. Grazie. Grazie.